A Cosenza mercoledì pomeriggio un intero quartiere si è mobilitato con l'intento di braccare una faena per evitare che potesse finire chissà dove. Il musteride si aggirava tra le aiuole e le strade del vicinato sin dal primo pomeriggio e ha dato del filo da torcere ai residenti che in vano hanno cercato di catturarla, tant'è che dopo un po' è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nonostante tutto i residenti hanno proseguito le ricerche, allertando nel tardo pomeriggio fin anche il Corpo Forestale dello Stato, grazie al Presidente dell'Enternazionale Protezione Animali di Rende, Lea Santaniello. Sul posto sono giunti gli uomini del comando stazione di Acri, i quali insieme agli abitanti del quartiere che nel frattempo avevano individuato nuovamente la faena in perfetta sinergia hanno agito sino alla cattura dell'animale. Infatti dopo averla inseguita per tutto il quartiere hanno costretto il musteride a rintenersi nei corridoi di un garage, spingendolo verso l'angolo del landrone dove attraverso un escamotage che ha fatto finire la faena in uno scatolo di cartone gli agenti del Corpo Forestale hanno provveduto subito a sigillarlo. L'animale nella stessa serata è stato trasportato presso lo studio di un veterinario che ha provveduto ad accertarsi delle condizioni di salute in modo tale da poterlo riaccompagnare nel proprio habitat naturale.